Frattura come Silla, il dittatore romano che sterminò i sanniti al termine di una lunga guerra. L'uno ce l'aveva con tutta la popolazione sannita, l'altro ha preso di mira i Serni e gli Sernini, forse pensando di fare terra bruciata intorno al suo antagonista politico storico, Michele Eorio. È chiaramente una metafora, forse un po' esagerata, ma serve a dimostrare plasticamente la frustrazione che ha colpito la pubblica opinione sernina dopo gli ultimi eventi. Da un lato la crisi economica, dall'altro lo Stato che riduce la sua presenza con Banca d'Italia, Prefettura, Telecom, Enel e quant'altro. Infine la negatività di una politica e di un Consiglio regionale appiattiti sugli interessi localistici di Molise Centrale e Basso Molise. Anche qui più di tutte le parole parlano le cifre. Nonostante che la popolazione della provincia di Sernia sia un terzo di quella regionale, a Palazzo Moffa i suoi rappresentanti sono solo in 3 su 20, un settimo al posto di un terzo del totale. Frattura si era impegnato a rivedere una legge elettorale così sbilanciata, ma non è successo nulla. Ed è chiaro che i rappresentanti della provincia di Capobasso tirano il freno a mano, pensando che le loro poltrone saranno tagliate. La misura è davvero colma e a Isernia sta montando un malessere nei confronti di una classe politica regionale così miope. L'ennesimo insulto al capologo Pentro è l'individuazione delle zone franche, dove gli investimenti privati possono essere accompagnati da quelli comunitari. Ebbene, ci sono tutti i centri maggiori del Molise, escluso solo Isernia. C'è Campobasso, Termoli, Larino, Boiano, Agnone, Venafro e Frosolone. Solo Isernia non c'è. Cosa aggiungere di più? Anzi, qualcosa da aggiungere c'è. Ed è il discorso che naviga ancora sott'acqua, quello dell'ampliamento dell'area di crisi che Frattura vorrebbe allargare a Campobasso e al Molise centrale. L'area di crisi, come è noto, è stata la risposta dello Stato alla crisi di TR, GAM e di Risio, un esercito di persone che hanno perso il loro posto di lavoro. Allargare l'area di crisi significherebbe tagliare ancora una volta gli investimenti diretti a Isernia. Frattura sta per integrare la sua giunta regionale, con un quarto assessore che dovrebbe essere Carlo Veneziale, in sostituzione di Massimiliano Scarabbeo. Siamo certi che, come avrebbe fatto sicuramente Scarabbeo, anche Veneziale, se diventerà davvero assessore in rappresentanza di Isernia, si rifiuterà di avvallare una decisione del genere da parte della giunta Frattura.